ciao sono federica della eco voice academy sapete che quando ascoltate musica non state semplicemente ascoltando musica essa infatti è risaputo scientificamente provato quanto possa portare benefici alla nostra psiche e al nostro corpo anche in ambito medico influisce infatti sul battito cardiaco sull'umore sul calo dello stress e sulla produzione di endorfine in ambito medico la musicoterapia è particolarmente indicata ma anche lo studio di uno strumento è particolarmente indicato per chi soffre di problemi motori o chi è in fase di riabilitazione dopo un incidente inoltre nei bambini quindi in tenera età studiare uno strumento aumenta il quoziente intellettivo notevolmente rispetto a tutte le altre attività extrascolastiche ascoltare musica di mozart infatti può aiutare ad aumentare la memoria in quanto sviluppa la concentrazione e la produttività quindi ricordatevi che ogni volta che ascoltate musica state facendo molto di più vi state salvando